Nel giorno dei verdetti e delle promozioni e retrocessioni c'è chi si gode il piccolo, grande miracolo della permanenza, ottenuto tra mille difficoltà sul fronte societario. Parliamo dello staff tecnico dei giocatori del Brindisi che contro tutto e tutti hanno lottato per centrare l'obiettivo. Pepper, come è maturata la permanenza dei biancazzurri in Serie D, ha quasi l'odore, come dicevamo, del miracolo tecnico. Caparvietà e attaccamento alla maglia da parte di tutti sono stati premiati. E' giusta la decisione presa di stoppare il campionato per il tecnico del Brindisi, Salvatore Ciullo, che pensa però anche a chi si ritrova a retrocedere d'ufficio e non sul campo. Per quanto riguarda il fermo del campionato penso che sia giusta la decisione che hanno preso perché non si poteva sicuramente ritornare a giocare. Per quanto riguarda le sentenze io penso che mi metto nei panni di chi l'ha subita in negativo perché a otto giornate dal termine penso che era tutto in gioco sia in vetta che nella zona retrocessione. Tutte le squadre tranne l'agropoli erano interessate nella lotta per la salvezza e vedersi così tolta una categoria in questo modo non la vedo giusta. Secondo me il verdetto del campo è quello più giusto. Perciò non sono d'accordo su questa decisione anche per rispetto delle società che sono state danneggiate. Inevitabile la soddisfazione da parte del tecnico di Taurisano per l'obiettivo centrato della permanenza in Serie D. Per quanto ci riguarda invece io sono contento e normale di aver raggiunto la salvezza. Il nostro obiettivo da quando ho preso la squadra a Brindisi la salvezza era l'obiettivo primario. C'era, saremmo giocata fino alla fine sicuramente con tutte le difficoltà e contro tutte le altre squadre. Perciò di questo egoisticamente sono contento.